ciao mi chiamo antonio carnevale vengo dalla provincia di frosinone 37 anni sono quasi 20 ormai che faccio questo lavoro questo questo mestiere diciamo iniziato tutto un po per gioco poi con l'esperienza che ho acquisito comunque sia mi sono innamorato un po di questo lavoro delle varie tecniche dei delle pitture delle decorazioni del cartongesso che è una nostra specialità perché appunto vedo che facendo cartongesso crei veramente qualcosa di materiale non sono magari come tanti un mero e proprio artista bensì sono più un tecnico sia del materiale dei prodotti che usiamo è per questo appunto che usiamo maggiormente prodotti di nicchia di altissima qualità appunto perché li studiamo li conosciamo li pratichiamo ecco poi queste grandi aziende ci riescono comunque sia a formare adeguatamente facciamo bei corsi belle collaborazioni anche con altri professionisti del settore e ne vengono fuori veramente lavori belli dove i clienti che sono i nostri preziosi rimangono soddisfatti è un po il sunto del nostro lavoro nel senso che quando quando vai in mano ai decorativi ovvio che deve avere creatività per avere creatività di conseguenza di avere passione in questo lavoro e fare cose magari diverse dalle da quello che fanno i comuni ma diciamo che ogni giorno è una sfida quindi ogni giorno facciamo un qualcosa di diverso dal dal lavoro precedente sì il nostro lavoro è molto faticoso anche perché noi essendo di frosinoni ci spostiamo anche molto su roma sui lavori quindi ci facciamo anche magari tanti chilometri per raggiungere il cantiere tanti poi per ritornare a casa ma poi quando chiudi il portone saluti i clienti che rimangono soddisfatti comunque sei ripagato almeno moralmente per tutto il resto